il pubblico questo è l'oceano al bufeira amici siamo tornati ad al bufeira oggi è sabato 16 giugno a distanza di un anno in questa ridente cittadina dell'Algarve la banda gratugia stazionerà ancora per qualche ora prego panoramica ora andremo a fare un bagnato in spiaggia ci rinfrescheremo dopo questa panache grazie per il così mi ricordo che devo tagliare le unghie e la popa da due friend di banda gratugia per carburadio ma vai ok tagliamo grazie a tutti grazie a tutti